Oggi è una cosa diversa perché abbiamo niente po' po' di meno che un attore inglese famosissimo Mr. Bean Mr. Bean alias Simone Merini Incredibile Complimenti Simone, Mr. Bean Direttamente dall'Inghilterra Intanto ti ha donato un fiore Grazie complimenti mister Bin ovvero lui è come sempre Simone Merini bravissimo grazie Simone allora